Dopo il caso ostriano e quello dell'hacker siciliano Carmelo Miano emerge un'altra fabbrica di dossieraggio che usava gli accessi abusivi alle banche dati. Il caso stavolta riguarda una grossa società di investigazioni che ha sede nel centro di Milano, la Equalize, ora messa sotto sequestro. Indagati il suo amministratore delegato Enrico Pazzali, che anche è presidente della Fondazione Fiera Milano, è strane ai fatti, e il suo principale gestore Carmine Gallo, ex superpoliziotto antimafia della squadra mobile, quest'ultimo finito ai domiciliari insieme ad altre quattro persone. I magistrati antimafia di Milano stamattina hanno spiegato i dettagli in una conferenza stampa col procuratore capo Marcello Viola e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Mirillo, che ha parlato di un problema allarmante in continua espansione. Ma davvero noi stiamo appena iniziando a comprendere qualcosa di come funziona questo mercato clandestino delle informazioni riservate. Tra gli indagati anche Leonardo Maria del Vecchio, il figlio del fondatore di Luxottica, oltre il banchiere e dirigente d'azienda Matteo Arpe, attraverso gli hacker della società di investigazioni, avrebbero carpito dati sensibili, acquisizione di tabulati telefonici e localizzazione di cellulari. Sullo sfondo, secondo i magistrati, guerre economiche o vecchie storie ereditarie, in un sistema che fruttava molti soldi. Più le notizie da carpire erano succose, più costava il servizio. Un giro di centinaia di migliaia di euro. E così chi si sentiva bersaglio di un'iniziativa scorretta da parte di qualche concorrente, e l'ipotesi dei magistrati, si poteva rivolgere a Gallo per acquisire contronotizie sui rivali. Tre, le società di investigazioni private sequestrate. L'affronte di maggior interesse dell'acquisizione di queste informazioni sembra essere quello del mondo dell'economia e dell'imprenditoria, più che quello della politica. L'inchiesta su questo gigantesco mercato abusivo delle informazioni riservate ha coinvolto anche altri paesi. Nella tela dei dati da rubare ci sarebbero diverse società estere, ma questa parte dell'indagine è ancora coperta da segreto. Non siamo al sicuro, la tecnologia è più veloce delle leggi, ha commentato il ministro della giustizia Carlo Nordio.